L'intelligenza artificiale ci può aiutare a prevedere l'epidemia di coronavirus. Buon martedì, buongiorno e buona settimana. Come va? Spero bene, perché là fuori le notizie un po' per questo virus, questa epidemia, il coronavirus, un po' per le informazioni che ci arrivano da questo virus non sono positive, no? Discosso le mascherine, discorso un po' della paura di questa epidemia. Bene, oggi vorrei darvi una notizia positiva che parla appunto di intelligenza artificiale, quindi del nostro mondo, riguardo appunto l'epidemia cinese, perché l'azienda Blue Dot ha identificato l'epidemia lo scorso 31 dicembre. Ebbene sì, quasi una settimana prima che arrivassero i primi allarmi e ancora prima, insomma, rispetto anche quando l'OMS, cioè l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il 9 di gennaio, ha dato, insomma, le prime indiscrezioni, ha dato l'annuncio. Perché? Perché chiaramente l'intelligenza artificiale, e questa società Blue Dot ne ha fatto, insomma, la sua bandiera, è la cosa che funziona di più perché chiaramente riesce a prevedere, in qualche caso, quello che sta accadendo. Mette insieme i dati, sfrutta tutte le informazioni che ha a disposizione e poi dà, diciamo così, un'identità reale al nostro sistema. Una cosa interessante è che tra i dati che questa azienda utilizza non ci sono i social, perché i dati sono troppi, sono, diciamo, possono portare a imbarazzanti passi falsi, insomma, a tutte queste epidemie, chiaramente le persone scrivono cose che pensano, ma cose che non riescono a verificare, per cui si basa sui dati certi, su anche come velocemente si muove l'informazione e come si muove anche la stessa epidemia, perché effettivamente uno dei grossi problemi ad oggi non è tanto sapere che c'è l'epidemia, o meglio, vedendo il governo cinese lo è anche per questo motivo, ma anche capire come si diffonde e come si trasmette. Chiaramente l'intelligenza artificiale fa caico su questo, sul fatto di poter muoversi in autonomia molto velocemente, molto più velocemente anche degli stessi scienziati nel prevedere la diffusione, meno purtroppo ad oggi nel trovare le cura di queste malattie. Però è sicuramente un alleato importante, perché in un mondo come questo di oggi, ancora di più veloce rispetto all'ultima epidemia della SARS del 2003-2004, quegli anni lì, noi sono già passati più di 15 anni, il mondo va ancora più veloce, gli spostamenti sono sempre più veloci, è sempre più complicato capire in che maniera ci si può difendere da questo male. Grazie quindi al machine learning e al linguaggio naturale, questo sistema, questo algoritmo, riesce a distinguere anche i falsi positivi, ma dopo aver identificato un potenziale pericolo, la palla passa a un operatore umano che lavorano per verificare i sospetti del programma e danno o meno poi l'informazione alle aziende sanitarie. Quindi fondamentalmente Blue Dot o tutte le altre start-up e società che lavorano in questo mondo come Metabiota o altri, lavorano per cercare i sentimenti online. Ma non sui social, non solamente sui social, anzi, li si prendono i più grandi falsi e positivi. Insomma, in un'epoca dove si va sempre più veloce, sempre più veloce lo spostamento degli esseri umani all'interno del nostro globo, sempre di più l'intelligenza artificiale riesce a aiutare, chiaramente, tutto quello che è il mondo nostro, degli esseri umani, e quindi essere da supporto per risolvere anche queste problematiche. Pensiamoci bene, chiaramente, anche qui, prima di dare all'untore della tecnologia e tutto il resto, che sicuramente rimarrai, diventerà sempre più importante nel mondo medicale e biomedicale. Vi auguro una fantastica settimana, lunga di soddisfazioni. Io sono Mario Moroni e questo è il caffettino. Se volete avere maggiori informazioni, www.mariomoroni.it e lì troverete tutte le informazioni necessarie per mettervi in contatto, per scrivervi gratuitamente alla community, oppure semplicemente per sapere chi sono. Non ti preoccupare, domani alle 7.30 sono di nuovo qui. Una buona giornata, ciao!